bella a tutti ragazzi bentornati nel dar channel io sono darplunici e benvenuti in questo nuovo vlog allora questo sarà un vlog dove verremo un caffè del buonissimo caffè preparato da me e sono le ore 18 aspettate metti a fuoco metti a fuoco vabbè sono le ore 18 e 50 quindi sono le 7 di sera e io sto bevendo caffè perché sto studiando come un malato perché domani cioè oggi che voi vedrete nel video io starò a fare l'esame ecco perché sto facendo questo vlog innanzitutto ragazzi perché non so se oggi riuscirò a far uscire il doppio video vedrete penso sicuramente questo vlog adesso come lo state vedendo alle 13 e 30 dipende a che ora finirò l'esame finirò tutto e quanto per poi vedere se riesco appunto a tornare a casa montare il video e caricarvelo quindi dipende tutto da questo ma ragazzi questo vlog come avete detto dal titolo mi è successo una cosa in questi giorni precisamente oggi stesso no cioè per voi ieri per me oggi faccio un sorso di caffè buono 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 senza zucchero ovviamente allora io oltre ad avere il fisso questo pc con cui vedete i video vedete tutto avevo un portatile ok il macbook dove avevo tutti i miei appunti tutte le mie cose tutte le cose importanti per l'università siete pronti a vedere la magia aspettate perché così non si vede bene ma adesso ecco ecco qua vedete 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 ecco eccolo qua questo è come si presenta il mio mac bello fatevelo spegnere guardate guardate qua che crepa tra l'altro mi si vede il riflesso mio del pc vabbè dettagli togliendo il mac ho un esame mi mancano roba di un sacco di pagine vi sto registrando questo video molto 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 velocemente per caricarvi uno per non lasciarvi senza video e due per farvi sapere la sfiga che mi perseguito sorso di caffè questo sarà l'ottavo e il nono in un giorno solo cioè sto proprio facendo droga su droga praticamente devo passare proprio all'iniezione di caffè tra l'altro fatemi sapere se vi può piacere una serie dove che faremo tra virgolette un terzo video al giorno non sempre dove caricherò dei video dove io puntualmente bevo il caffè sto così parliamo di vari argomenti cose tipo come accadeva nei tempi passati non so per ecco chi la studiate muasce la perla proprio di saggezza ovvero quando si riunivano a prendere stavo facendo danni stavo facendo danni quando si arrivano a prendere il caffè tutti insieme discutevano e cose di questo tipo noi berremo il caffè il tempo di un caffè durerà il video saranno video abbastanza brevi che potrei aggiungerti come terzo video al giorno la mattina verso le 11 cose di questo tipo magari la domenica sto ipotizzando che secondo me potrebbe essere un'idea abbastanza carina perché comunque domenica mattina nessuno va a scuola fino a quando appunto aspettando l'uno e mezzo in cui riesce il video ci beviamo il caffè fondamentale per la vita di uno studente universitario questa è vita in ogni caso ragazzi vi ho fatto vedere qual era il problema mio si ve l'ho fatto vedere tra l'altro tanto per cambiare io avevo degli appunti scritti prima a mano ovviamente poi trascritti mentre facevo tutti i miei viaggi mentre andavo a casa tornavo qui sopra però la cosa brutta che i fogli li ho lasciati a casa non alla casa casa non alla casa adesso qui a Bologna dove sto in affitto quindi sto rifacendo tutto da casa tutti i riassunti che mi ero preparato per ripassare per fare cose ma non so cosa fare prima sto registrando questo video qua a fianco sul secondo monitor ho gli appunti le cose da scritte che sono riuscito a recuperare grazie a un'email che avevo mandato a mio padre per farmi stampare questi appunti quindi ragazzi potete capire il bordello sorso di caffè alla salute a posto il caffè è finito l'ucchiaio e caffè via allora ho tolto il caffè ragazzi tra l'altro oggi per voi che vedete appunto il video mi viene sempre a dire domani però oggi forse dopo l'esame quindi verso la sera a pomeriggio andremo in live magari per fare un po' di minigames o se riesco addirittura a cercare di portarvela di continuare la exit solo in live quindi fare video da un'ora un'ora e mezza due e caricarveli così cioè caricarveli facendo solo la live se voi vi chiedete dark ma è inverno fuori ci sono meno 300 milioni di gradi e tu stai a maniche corte bene ragazzi ho i termosifoni qui che proprio sto esplodendo io sto morendo di caldo forse per me stare nudo tolto anche quest'altro dettaglio io vi ricordo di mettere un bel pollicione in su continuare a seguirmi vedetevi la serie dell'addestramento che esce generalmente tutti i giorni oggi forse se riesco come ho detto ve la carico però non si sa mi raccomando spolliciate commentate condividete andate a vedere il trailer dell'addestramento un video ignorantissimo e noi ci vediamo in un prossimo video fatemi sapere anche per quanto riguarda la serie del caffè bella